Siamo con Tovagliari del centro sportivo esercito allenatore del comitato Asiva. Come è iniziata la stagione per il vostro comitato? Ma è iniziata bene, è finita meglio l'anno scorso nel senso che sono entrati quattro ragazzi in squadra nazionale e durante l'estate abbiamo lavorato bene, tanto che c'erano anche due atleti qualificati nella squadra di interesse nazionale che in questa estate abbiamo fatto una serie di test e alla fine di questi test si potevano qualificare ancora due persone che potevano fare il circuito di Copa Europa nel mese di dicembre. È nata bene perché altri due atleti del comitato Valdostano sono entrati quindi diciamo che è iniziata benissimo. Sì, peraltro i due gemelli Shanuan, uno era in squadra juniores e l'altro si è qualificato, quindi insomma una bella notizia per l'Asiva che comunque continua anche ad avere atleti arruolati nello sci di fondo quindi anche questo è segno di un buon lavoro. Sì, è un buon lavoro innanzitutto dell'atleta in sé perché comunque devi avere un atleta forte per avere determinati risultati. Però sì, il movimento del comitato Valdostano che è sicuramente seguito dai club valdostani è di ottimo livello quindi siamo secondo me nella giusta direzione e sono molto contento di questo livello che c'è in Val d'Aosta. Quest'estate l'ho collaborato anche con il gruppo atleti di interesse nazionale volevo chiederti l'importanza di questo progetto per i giovani atleti che sono fuori dal giro della nazionale juniores. Il progetto interesse nazionale è praticamente un'anticamera di squadra confronto alla squadra di junior perché raggruppa tutti gli atleti che sono vicini alla squadra junior ma che non avevano i titoli per entrare. Quest'estate siamo riusciti a fare dei raduni con questi partecipanti che sono i migliori di ogni comitato italiano. Durante l'estate abbiamo fatto una serie di test che valevano come selezione per partecipare al mese di dicembre alle gare di Coppa Europa. Da questi test sono venuti fuori due atleti che hanno acquisito il diritto di andare con la squadra junior per il mese di dicembre nelle gare di Coppa Europa. A che punto hai il livello di conoscenza da parte dei giovani circa sia l'allenamento sia proprio la preparazione tecnica dei materiali? La preparazione è buona, diciamo che bisogna dargli una cultura molto importante soprattutto sul lavoro. Bisogna fargli capire che con un gran lavoro e dedizione alla fatica si otterranno risultati. Però diciamo che il movimento in sé è molto cresciuto in questi ultimi anni proprio anche grazie a questi progetti fatti dalla federazione. Aiutano anche i tecnici dei vari comitati a confrontarsi e diciamo così anche a parlare così la stessa lingua nei vari comitati soprattutto a livello tecnico e nelle correzioni tecniche. Hai molta esperienza da allenatore sia nel centro sportivo esercito, nel biathlon, nel fondo e adesso come distaccamento nel comitato asiva. E volevo chiederti proprio questo, la differenza che hai trovato nell'allenare un comitato. Sì, ho avuto questa grande fortuna e che l'esercito mi ha dato la possibilità di vedere anche vari ambienti, quindi il biathlon e il fondo. Ho iniziato nel biathlon, è stata una bellissima esperienza che poi mi sono portato dietro nello sci di fondo, nella squadra nazionale junior che ho allenato per cinque anni. Dopo questi cinque anni però volevo un attimo allargare un po' la mia visione dello sci di fondo e ho avuto questa possibilità di andare a allenare il comitato valdostano e questo mi ha permesso di vedere soprattutto a livello giovanile come viene cresciuto un atleta e come viene impostato un atleta e questo mi permette di avere un grosso bagaglio e eventualmente per un'esperienza futura, magari anche in squadre maggiori, però è comunque anche un mio interesse personale sapere dal basso, lo sci di fondo, anche come sta crescendo. Ecco, dall'altra parte invece per il giovane, avere un tecnico con la tua esperienza all'interno del centro sportivo esercito quanto è importante? Penso che sia molto importante perché comunque conoscono anche da dove sono arrivato, il mio passato d'atleta, quindi riconoscono un po' l'esperienza con la poca esperienza che ho fatto. L'ultima cosa, magari un argomento un po' più complicato sotto un certo punto di vista, sappiamo che i giovani si giocano tanto, perché magari si possono giocare un arruolamento, il futuro, una carriera all'interno dello sci di fondo e quindi volevo chiederti quant'è la cultura sportiva sotto questo punto di vista anche dei giovani, cioè quanto tra loro collaborano nel corso delle gare, dei weekend? Collaborano molto, poi essendo un mondo adesso molto aperto ai social anche vari atleti di varie regioni si sentono continuamente, quindi si informano, chiedono, si confrontano sui vari tipi di allenamenti, su chi riesce a sciare prima o chi dopo, diciamo che adesso ci sono le porte aperte per la conoscenza dei vari lavori anche dei comitati, quindi è tutto d'aiuto, perché comunque stimola i ragazzi a mantenersi aggiornati, io li vedo molto curiosi e pronti, preparati per affrontare poi la stagione invernale. Grazie mille.